Dopo l'esperienza positiva ed emozionante degli scorsi anni, al liceo scientifico IUCI di Rieti, dove il programma è attivo dal 2010, Sony realizza Pro da Milano, allargandosi così a nuove realtà scolastiche di primo livello. Grazie all'impegno e all'entusiasmo di alcuni ex studenti che si sono fatti promotori dell'iniziativa, Sony Realize è stato attivato in tempi record presso il liceo scientifico Einstein di Milano, che vanta tra i suoi ex studenti personaggi di spicco nel mondo della politica, dell'industria e dello spettacolo. L'innovazione può e deve partire dalle scuole, dalla formazione, diffondendo la voglia di fare e l'ottimismo tra le nuove generazioni, afferma l'ex IUCI e il fondatore Giuseppe D'Antonio Globetrotter, che ha fatto dal web dell'innovazione digitale la sua professione.